Bilancio approvato il consolidato 2021. Allontanamento zero presentati 457 emendamenti. Grattacielo Regione Tronzano. Il 14 ottobre sarà presentata la segnalazione certificata di inizio attività. La scia antincendio entrerà in uso non prima di gennaio-febbraio 2023. Nuova edizione di Consiglio News. Ben trovati, approvato il bilancio consolidato 2021 e la fotografia della situazione economico-patrimoniale della Regione e delle 22 società partecipate. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio 2021. Il documento, come ha ricordato l'assessore Andrea Tronzano nella sua relazione introduttiva, consente di rappresentare le risultanze di enti e società controllate e partecipate insieme ai dati del rendiconto finanziario della Regione. Sono 22 le società che rientrano nel consolidato. Bilancio che ha avuto il parere positivo dei revisori dei conti, quindi continuiamo così nella riduzione del disavanzo senza tagliare i servizi. Una fotografia della situazione reale della Regione e di enti importanti che svolgono un ruolo cruciale in numerosi settori socio-economici, ha ricordato il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni, annunciando il voto favorevole del suo gruppo. Ci vuole un dialogo, un confronto costante con questi enti che sono strategici per il Piemonte. Dall'ARPA a Visit Piemonte, all'IRES per non parlare di film Piemonte, le ATL che impattano sul territorio per la promozione turistica, tutta una serie di enti che hanno una grande importanza sociale e una grande importanza economica per le aziende. Contrario il gruppo Partito Democratico che attraverso gli interventi di Maurizio Marello, Monica Canalis, Alberto Avette e Diego Sarno ha lamentato una scarsa capacità di programmazione da parte della Giunta e ribadito la necessità di una maggiore razionalizzazione delle società partecipate. Ci dovrebbe essere un po' più di attenzione, anche perché in passato i dissesti degli enti sono proprio iniziati dalle partecipate, proprio per questo è stato previsto il bilancio consolidato, quindi bisogna sempre essere molto attenti. Magari noi facciamo attenzione al nostro bilancio, ma le partecipate vengono magari talune, governate in maniera non consona, quindi ci vorrebbe secondo me maggiore attenzione. L'Assemblea regionale ha iniziato l'iter per esame del disegno di legge 64 del 2019, allontanamento zero, interventi a sostegno della genitorialità enorme per la prevenzione degli allontanamenti, che era stato richiamato in aula prima di terminare l'istruttoria in Commissione Sanità, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio. Gli emendamenti depositati al momento sono 457, respinta la richiesta di rinviare il provvedimento in Commissione per un ulteriore approfondimento, così come sono state respinte anche le numerose istanze di sospensiva presentate dalle opposizioni. L'esame del disegno di legge proseguirà nella prossima seduta di aula. Grattacielo Regione Piemonte, il prossimo 14 ottobre verrà presentata al Comune di Torino la segnalazione certificata di inizio attività, la scia anti-incendio necessaria per ottenere la pratica di agibilità. Il palazzo entrerà in uso non prima di gennaio-febbraio 2023, lo ha dichiarato l'assessore Andrea Tronzano in risposta a un'interrogazione del consigliere Daniele Valle. Con i suoi 205 metri di altezza e 44 piani che ospiteranno a partire dai primi mesi del 2023 oltre 2.000 dipendenti, il nuovo grattacielo della Regione Piemonte è alla fase di fine lavori ed è il terzo edificio più alto d'Italia. Quando tutti gli spazi completati del palazzo potranno essere accessibili? Questo l'interrogativo che Daniele Valle, Partito Democratico, ha rivolto all'assessore al bilancio Andrea Tronzano nell'ambito dei question time in Consiglio regionale. L'assessore Tronzano ha spiegato che si sta predisponendo la pratica scia antincendio e che questa sarà presentata il 14 ottobre a Ribadito Valle. Quindi slitta così a data indefinita la presentazione della pratica di agibilità e si procrastina il trasferimento dei dipendenti. Insomma, i lavori di costruzione sono finiti il 29 luglio, ma dopo 11 anni il cantiere del grattacielo regionale continua ad essere infinito e nessuna certezza è stata data sul cronoprogramma. Il progetto FUXAS con le relative varianti è finalmente giunto allo stadio di fine lavori, sottolinea l'assessore Tronzano. Siamo alla conclusione dei lavori contrattuali all'avvio della fase di chiusura contabile e dell'allestimento degli spazi. Considerando che il cantiere del grattacielo era fermo da un tempo interminabile ed è stato sbloccato da questa giunta in mezzo a emergenze di tutti i tipi, appare quantomeno un po' surreale che abbattere i tempi sia chi ha governato per 5 anni prima di noi senza fare nessun passo avanti per il suo completamento. Abbiamo finito i lavori ed entreremo nei tempi previsti rispettando le procedure di legge senza alcun rallentamento. Come avevamo annunciato, il 14 ottobre il grattacielo verrà consegnato alla Regione alle ore 11 con una cerimonia ufficiale. Da quel momento inizieranno le procedure di trasferimento dei dipendenti partendo dagli uffici che sono in affitto in modo da iniziare a risparmiare sui canoni a carico dell'ente. Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai concorsi per le scuole indetti dal Consiglio regionale. Storia, Europa, Costituzione, Legalità, Ambiente e Salute sono solo alcuni dei temi protagonisti dei concorsi rivolti agli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e agli enti di formazione professionale del Piemonte che il Consiglio regionale d'intesa con l'ufficio scolastico regionale ha scelto di organizzare anche per l'anno scolastico 2022-2023. Dopo due anni di stop a causa delle numerose misure di sicurezza legate alla lotta alla pandemia torneranno tra i diversi premi previsti dai bandi i viaggi studio in Italia e all'estero per i ragazzi. Abbiamo visto riprendere l'attività in consiglio e in commissione, in attività a pieno regime anche grazie al calo dei contagi del Covid-19 e soprattutto abbiamo voluto dare un'impronta ulteriore a tutte le attività extra-legislative del Consiglio regionale. La collaborazione tra Consiglio regionale del Piemonte e Ufficio scolastico regionale per il Piemonte consente ai nostri giovani di fare in modo che a scuola si eserciti la democrazia e la partecipazione. Sono sette i concorsi proposti alle scuole. Le note del cuore a cura degli stati generali della prevenzione, del benessere, dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Associazione Nazionale Italiana Cantanti in adesione alla partita del cuore. Il concorso intende promuovere la cultura della salute e l'importanza di fare prevenzione e di adottare scelte e comportamenti consapevoli per la propria salute e il proprio benessere futuro. Progetto di storia contemporanea. Il concorso, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e agli enti di formazione professionale del Piemonte, rappresenta un'occasione di studio e di ricerca su tappe e temi importanti legati alla storia e all'attualità. Chi è di scena? La Repubblica, rivolto agli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, permetterà ai ragazzi di spiegare e rappresentare, attraverso il teatro e la recitazione, la propria idea di Repubblica ispirata ai valori fondamentali della Carta Costituzionale. Una riflessione profonda sui valori della Costituzione e sui valori della Resistenza. Quest'anno con dei temi molto attuali, legati in particolare alla guerra e all'ambiente, li proporremo in forme diverse, quindi temi, dibattito, fotografie o video. Diventiamo cittadini europei. Promosso dalla consulta regionale europea e rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte, è volto a promuovere tra gli studenti l'identità europea e ad ampliare la conoscenza dei diritti connessi alla cittadinanza europea. I vincitori avranno la possibilità di andare nelle sedi del Parlamento europeo e quindi avvicinarsi a questa istituzione conoscendola meglio dall'interno. Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte, è pensato per educare gli studenti a una gestione consapevole e responsabile del denaro e alla promozione della cultura della legalità. Noi siamo molto attenti a queste problematiche, vogliamo che l'osservatorio sull'usura e sovraindebitamento sia sempre più vicino, partecipa ai nostri ragazzi, che possano avere un futuro migliore. Il progetto Ambasciatori ha lo scopo di educare e formare gli studenti per farne gli ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte. Tale status costituirà il patentino per trasmettere ad altri studenti le conoscenze acquisite nelle tematiche promosse dal Consiglio regionale. Il progetto Ambasciatori, dichiara Francesco Graglia, vicepresidente con delega alla consulta europea, alla luce degli eventi internazionali che ci tengono da tempo con il fiato sospeso, dalle vicende belliche in Ucraina, alla conseguente crisi economica che tocca anche il nostro paese, è oggi più che mai legato all'attualità. Il Consiglio regionale ci dà credito è un concorso speciale ideato in occasione dell'Anno europeo dei giovani. Gli studenti saranno chiamati a formulare proposte in ambito di transizione ecologica, digitale e cittadinanza europea. 2022 è l'Anno europeo dei giovani, mediaticamente mi sembra che sia stato un po' dimenticato, ma non l'ha dimenticato il Consiglio regionale del Piemonte e quindi stiamo portando avanti questo bando che prevede un concorso che si chiama il Consiglio regionale ci dà credito. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!